Ciao a tutti ragazzi e ragazze Ben ritrovati in questo nuovo video dal vostro Elix Oggi siamo ritornati su Plague.inc Ovviamente la versione per Android Allora, ero indeciso su cosa portare O portare Dino Hunt e Deadly Shore O portare Zombie Combat Simulator Sì perché c'era stato un nuovo aggiornamento che aveva reso il gioco grandioso O portare dei giochi che mi consigliavate sotto i commenti dei miei video Beh, non ho ricevuto in questi giorni dei commenti Quindi ho pensato fra me e me cosa portare E così ho deciso di riportare Plague.inc Sì ragazzi Perché sinceramente avevo fatto solo due video di Plague.inc E poi perché volevo mostrarvi le malattie speciali Cioè ovviamente le malattie di questo gioco Non nella vita reale Cioè delle malattie stranissime Che ho di qualche film Che magari sono un po' strani Un po' misteriosi Potentissimi Insomma speciali Insomma un po' magiche Insomma Delle malattie che comunque devono decimare la popolazione Cioè la popolazione umana E ovviamente fra tutte queste malattie Che adesso mi mostrerò Ecco infatti Ecco qua andiamo negli speciali Ecco Queste sarebbero le malattie speciali Che sono queste Allora La piaga ombra Che è un virus Che rimporta in vita una persona Tramuntandola in vampiro E il vampiro deve cercare di diffondere questa malattia Chiamata la piaga delle ombre Sì piaga ombra Vabbè quel che è E la diffonderà tramite una sorta di culto E poi c'è questa malattia Che avevo intenzione di portare sul mio canale Che è il virus delle scimmie Per chi conosce il film Il pianeta delle scimmie Non quello del 1968 Ma il remake del franchise del film Saprà che c'è questo virus Che aveva decimato l'umanità Perché degli scienziati di un laboratorio Chiamato Genesis Se mi ricordo Poi l'ho visto tanto tempo fa Quel film E c'era questo laboratorio Che volevano cercare di Creare una cura virale Per l'Alzheimer E prima avevano testato questa cura Su delle scimmie Ma la cura non procedeva Come pensavano gli umani E ben presto Delle scimmie Furono infettate da questa sorta di cura Diffondendo un virus Che le rendeva intelligenti le scimmie E contagiava le persone Uccidendola Tipo un Alzheimer virale Che rendeva stupidi gli umani Ma rendeva intelligenti le scimmie E poi c'è questo Il virus necroa Che sarebbe un virus Zombie Capace di rianimare le persone morte E poi c'è questo Il verme Neurax Che sarebbe un verme Che ti controlla il cervello E ti obbliga a fare delle cose Per infettare l'umanità Ovviamente ragazzi Io volevo provare questo virus Perché mi stava molto interessando Questo virus Perché A parte che il pianeta delle scimmie Cioè l'alba del pianeta delle scimmie È uno dei miei film preferiti E poi volevo provare questa malattia Perché è presa proprio da quel film E vedere cosa succederà Quindi ragazzi Siete pronti Per Questa malattia Siete preparati? Siete pronti per combattere Contro le scimmie intelligenti? E io credo di no Dato che muterò il virus Ok ragazzi Io direi di iniziare Proviamolo gratis Allora Casuale No anzi Facciamo Casuale o normale o brutale Vabbè Normale Facciamolo Diamogli un nome Un po' scientifico A questo virus Io gli Darei un nome Come ho preso Quello del film Ok Scimmian flu Ci Magari potevo Chiamare il virus Banana O Un virus Con un nome assurdo Però Preferisco un po' Dargli un nome un po' scientifico Insomma Scimmian flu Influenza delle scimmie Ovviamente Perfetto ragazzi Ah qua Purtroppo non posso modificare Il codice genetico Purtroppo Però vabbè Tira di iniziare ragazzi Allora Intanto Aspetta Ok A parte che Adesso Scusate A parte che non c'è l'audio Non so perché Non c'è l'audio Del gioco Ho provato Anche a vedere Se ci fosse l'audio Ho provato a vedere Per il volume Ma Purtroppo non c'è E ovviamente Vabbè Sti cavoli Vabbè Leggiamo qui Sei un nuovo virus Delle scimmie Per vince Deve evolvere E dilagare In tutto il mondo Portando all'estinzione All'umanità Con una malattia definitiva Ok Tocca al paese Per iniziare la malattia Vabbè Inizierò dagli Stati Uniti Perfetto Perfetto Inizierò da qui Scimmian flu Ha infettato Il suo primo umano Devole Generica Deve evolversi Blah 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 Questo li sappiamo Allora Dovrebbe Iniziare A esserci Il laboratorio Ecco Scimmian flu Geni Vabbè Un virus Geneticamente Modificato Dalla Laboratorio Genesi Aumenta L'intelligenza Delle scimmie Ma Muta Rapidamente E Causa Problemi Non Non so Tanto bene L'inglese Comunque È un virus Blah 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 Che rende le scimmie Intelligenti E rende stupidi Gli umani Ok Quindi Adesso dovrebbe Apparire Il laboratorio Della Genesi Qui Ecco A parte che Si sta già Ecco Laboratorio Genesis Esperimenta Un farmaco Virale Negli Stati Uniti Genesi Ha presentato Una nuova terapia Genetica Rivoluzionaria Per l'Alzheimer Ecco Infatti È presa Dal film L'alba Del pianeta Delle scimmie Allora La sperimentazione Sull'uomo Inizierà Non appena La sperimentazione Sulle scimmie Negli Stati Uniti Sarà completata Va bene Ok A parte Ecco qua Qua Adesso C'è il laboratorio Della Genesi A San Francisco Si perché il film Era ambientato San Francisco Ecco Vabbè Vabbè Questo lo so Scoppiamo Le bollicine Per il DNA Allora Ecco qua Possiamo vedere Il grafico Ecco qua Le scimmie Non sono ancora Intelligenti Gli umani Sono intelligenti Allora Trasmissione Sintomi Non so Prima di tutto Magari potrei Fare con la trasmissione Fumiti Il patogeno In grado Di trasmettersi Tramite il contatto Fisico L'infettività Aumenta Specialmente In ambienti Urbani Ok ragazzi Direi Di utilizzare Questo Aspetta Ci sono Dei punti Abilità Più bassi No Per il momento C'è questo A parte che C'è questo Vabbè Proviamo con questo Con le fumiti Cioè Proviamo a mutare Il patogeno Così si possa Diffondere Tramite il contatto Fisico Così Nel senso Che se Tocchiamo Una persona Potremmo Trasmettere Il virus E così Il virus Si espanderà Ok Perfetto A parte che Gli Stati Uniti Ecco Sei riuscito A fare Volvere la malattia Vabbè Questo lo so A parte che I Questa Cioè Gli Stati Uniti Sono Sono Un paese Molto insomma Sano Insomma A parte che Arrivano In America Arrivano fino ai 40 anni Mi sembra O qualcosa Del genere Ok Però sono Un paese Molto sano Mi sembra Molto ricco Insomma L'America Un paese Molto ricco Quindi Sarà un po' Difficile Cercare di infettare L'America Ok Controverse Nel dibattito Universitario Ah Questa non c'entra niente Con la malattia Quindi Non la leggiamo Ok Dabore Genesi Ecco Qua dobbiamo stare attenti Alle notizie Perfetto Quando Allora Prima Magari potrei rendere Il virus Pericoloso Per gli umani Dopo Rendere le scimmie Più intelligenti Potrei fare così Poi bisogna vedere Ok Spero solo che arrivino Punti del DNA Aspetta Provo a mutare Un po' L'epidemia Adesso iniziamo Con sintomi Emicrania Una forte emicrania Dietro agli occhi Crea disagio E riduce Le capacità Lavorative No Proviamo qualcosa di più Ok Faringite Maldigo La crea disagio Aumenta la possibilità Che la tosse Difondare il contagio Ah bene Questo ha solo un punto D'abilità Quindi possiamo utilizzarlo Tosse Possibilità Di infezioni Di diffondere Il patogeno Nei ditorni Specialmente In aree urbana In alta densità Demografica Quindi vabbè Proviamo anche questo Perfetto Così sare Il virus Si diffonderà Facilmente Sia con il contatto Fisico Che con la tosse Poi dobbiamo Ecco Bollicine Per i punti DNA Perfetto Poi ragazzi Non so quanto tempo Ci metterò Per diffondere La malattia Poi magari Dividerò Il video in parti Ok Forse avrei dovuto Farlo iniziare In un altro paese Un po' più povero Però Ho preferito Fare un po' come Nel film Perché il film Era ambientato Negli Stati Uniti A San Francisco Ok Polmonite No aspetta Dobbiamo stare attenti Poi perché Alcuni virus Potrebbero causare Le Come si può dire Potrebbero Cioè Se mutiamo la malattia Potrebbe anche Diventare letale Quindi prima di tutto Rendiamo l'infettiva Perfetto Con gli stannuti Allora Abbiamo adesso Messo gli stannuti Allora I fluidi dispersi Tramite gli stannuti Aumentano l'infezione Bene Sarà un po' come un'influenza Infatti Però un po' più letale Insomma E renderà Le scime più intelligenti Sì ragazzi Una volta Ecco Il scime un flu Inizia a diffondersi Il scime un flu Si sta diffondendo Da persona a persona Negli Stati Uniti Crescerà Esponenzialmente Se Tu Sei tu A controllare La malattia A controllare Indi Vabbè Lasciamo perdere Ok Devo ritornare a scuola Sono proprio Sto Diventando Analfabeta Oh Ok Perfetto Allora Non è che abbia Tanti punti Ecco Già Noto Che il cervello Degli umani È un po' Insomma Danneggiato Insomma Ok Fotobobia Trasmissione Allora Dovremmo poi Iniziarlo A mutare Trasmettendolo Tramite gli animali Che magari così Ci farà in modo Di sbloccare Cioè Ci farà in modo Per sbloccare L'intelligenza Delle scimmie Ok Per il momento Sono in 24 No Anzi In 26 27 Però negli Stati Uniti Sono molto sani Allora Vediamo Ok Allora Niente ragazzi Io Termino qua Questo video E ci vediamo Per la prossima parte E ci vediamo E ci vediamo E ci vediamo